I colleghi in presenza, i colleghi che sono collegati da remoto e naturalmente il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che oggi è qui con noi. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno rega l'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Ringrazio il Ministro Bianchi di essere presente qui oggi per questa audizione, nella quale vogliamo fare il punto con lui su quello che il Ministero sta facendo in merito all'avvio del nuovo anno scolastico. Come sempre darò prima la parola al Ministro per la sua relazione, poi ai colleghi che hanno fatto richiesta. E quindi di nuovo al Ministro per la replica. A lei il Ministro la parola. Prego. Vi ringrazio moltissimo Presidente e ringrazio tutti voi di aver voluto assegnare alla scuola questo riavvio dell'attività parlamentare. Vi ringrazio moltissimo perché abbiamo chiaro tutti quanto sia importante ripartire quest'anno avendo quel carattere di sicurezza necessaria per poter garantire una presenza altrettanto necessaria. Allora mi avvicino di più in modo da essere percepibile. Allora, grazie dicevo, grazie a tutti per avermi invitato in questo avvio di attività e per spiegare come stiamo affrontando tutti assieme la riapertura dell'anno scolastico. Innanzitutto voglio ricordare, quando dico tutti assieme, cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di 857.077 docenti e di 213.243 tecnici amministrativi. 1.070.320 sono le persone che lavorano nella nostra scuola e che stanno lavorando tutti per il benessere dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. L'impegno che ci avevamo presi era quello di ripartire avendo tutti i docenti al loro posto. Sono veramente contento di dire che questo impegno che ci avevamo presi tutti assieme quest'anno sarà realizzato per la prima volta. Per la prima volta nella storia della Repubblica noi partiremo il 13 avendo tutti i docenti indicati dal Ministero al loro posto. Sto parlando di rispetto ai 112.473 cattedre vuote e vacanti autorizzate dal Ministero del MESP, dell'Economia e Finanze. Noi avremo 58.735 posizioni a ruolo già assegnate. Non abbiamo atteso il primo settembre come succedeva ma l'abbiamo fatto in agosto e abbiamo altri 53.738 incarichi annuali, quelli che generalmente venivano assegnati fra ottobre e novembre. Noi li abbiamo assegnati ieri 6 di settembre. A questi abbiamo aggiunto 59.813 posti già assegnati in deroga prevalentemente per il sostegno. Quindi permettetemi di ringraziare tutti i nostri funzionari, le OSR, i presidi per aver fatto questo lavoro titanico e aver permesso oltre ai 58.736 di ruolo di avere le 113.000 assegnazioni annuali che permette di muoversi avendo come residuo soltanto le assegnazioni di breve e brevissimo periodo che gli stessi dirigenti scolastici possono fare sulla base delle messe a disposizione. Questo era un impegno che ci avevamo presi come governo e permettetemi, noi tutti, con le famiglie. Bene, noi l'abbiamo realizzato e questo mi sembra assolutamente importante. Voglio ricordare in particolare il sostegno. Noi tutti abbiamo condiviso l'evidenza che dopo anni, non mesi, anni così difficili fosse necessario dare la massima attenzione ai nostri ragazzi che più richiedevano attenzione. All'interno dei 58.000, 14.194 di ruolo sono in sostegno e 59.813 sono in deroga. Quindi io credo che siamo in grado di dare risposta alle nostre famiglie. Giusto come ricordo? Come ricordo? Ricordo che l'anno scorso si giunse a fare assunzione in ruolo per 19.995 e 1.778 di sostegno. Il risultato che avevo portato è un risultato collettivo, un risultato di tutti. E' quello sforzo straordinario che tutti abbiamo fatto nel riporre la scuola al centro. Vi ricordo che noi già in questa terribile terza ondata che ci ha colpito in primavera avevamo fatto la scelta di tenere i bambini più piccoli sempre a scuola, di riportare i più grandi già dopo Pasqua di fare gli esami di terza media e terza del primo ciclo della secondaria. Io ogni tanto cedo alle edizioni ancora conosciute e della maturità in presenza. Ricordo che abbiamo fatto 576.000 esami di fine del primo ciclo della scuola secondaria, cioè di terza media, e abbiamo fatto 540.000 esami di maturità e diploma tutti in presenza. Durante l'estate abbiamo tenuto le scuole aperte, abbiamo dato 150 milioni a tutti per fare questa fase di accoglienza che è stata fatta in tutte le scuole e abbiamo dato complessivamente 530 milioni per progetti. Abbiamo ricevuto 35.000 progetti da 7.150 istituzioni scolastiche su 8.000. Tutte quelle del Sud. L'abbiamo finanziato sul PON. abbiamo avuto un recupero di 1.650.000 ore di attività didattica. Ma soprattutto abbiamo, soprattutto nei centri minori, riacceso l'idea che la scuola era aperta ed era aperta in presenza. Siamo quindi arrivati a questo settembre con una grande, grandissima attenzione da parte di tutti. Noi nel contempo, come voi sapete, abbiamo massicciamente investito. Abbiamo utilizzato tutti i fondi europei che erano a nostra disposizione. e abbiamo indotto anche tutti gli enti locali a utilizzare a pieno i fondi europei. Voi sapete che siamo già in una fase di nuova negoziazione dei fondi. Noi abbiamo già negoziato i fondi del PON per quanto riguarda il Ministero e sono lieto di dirvi che dai 2 miliardi e 7 dell'anno scorso siamo passati a 3 miliardi e 8 di questo giro. Un miliardo in più per la scuola. Nei fondi che abbiamo disposto essenzialmente a favore dei nienti locali, proprietari degli edifici. Abbiamo investito 2 miliardi e 6 per la sicurezza fisica, sismica, dei locali. Abbiamo investito altri 2 miliardi per un totale di 5 miliardi e 100 per quanto riguarda la digitalizzazione in modo da portare la rete e tutti i device necessari a tutte le scuole italiane. A fronte di questo abbiamo investito altri 2 miliardi per quanto riguarda la riapertura. 850 milioni per i trasporti. Qui voglio ringraziare i prefetti. I tavoli prefettisti si sono rivelati ancora una volta il perno necessario del coordinamento. Certamente abbiamo situazioni molto diverse nel Paese e io per primo che mi sento tuttora e garante delle autonomie non ho voluto sovraccaricare le direttive in questa fase proprio perché i nostri prefetti erano in grado con i nostri dirigenti con le USR di trovare con gli enti locali a soluzioni migliori che si adattano di volta in volta nella situazione specifica. Rispetto a questo il dato essenzialmente nuovo di quest'anno rispetto all'anno scorso è ovviamente la vaccinazione. La scuola ha reagito più di ogni altro settore della nostra società all'invito del Presidente a vaccinarsi. Siamo oltre nel 92% come avete visto non posso esimermi da rivolgere l'ingraziamento mio e di tutti noi al generale Figliuolo ovviamente abbiamo ben presente la quota rilevante di nostri colleghi che non possono vaccinarsi avendo condizioni di salute vi ricordo l'età elevata dei nostri docenti del nostro personale abbiamo d'altra parte visto che siamo stati in grado di operare nel pieno rispetto della privacy. Voglio fare mi scusi il Presidente questa lista degli ingraziamenti ma lo devo fare è una strenazione collettiva un ingraziamento speciale al Presidente dell'autorità garante dei dati personali per la sua stanzione. Abbiamo lavorato d'estate con lui e abbiamo ottenuto un grande risultato che è quello di permettere dal 13 di settembre a tutte le scuole di avere sul computer del preside e solo sul suo la lista del personale presente in quella scuola semplicemente con il bollino rosso o il bollino verde non cumulabile nel tempo perché i dati sanitari non si possono cumulare ma che non solo evita le file ma evita anche l'umiliante idea del vedere chi si e chi no. è stato un lavoro notevole abbiamo messo insieme per la prima volta i dati del Ministero della Salute i dati del Ministero dell'Istituzione le capacità tecniche del MEF e soprattutto la continua assistenza dell'autorità sulla privacy è un buon metodo è un buon metodo noi porremo sempre innanzi ad ogni problema i problemi della privacy e del rispetto dei diritti delle persone però ugualmente dobbiamo coordinare questo con il dovere alla sicurezza e lo facciamo con le autorità dello Stato quindi mi sembra assolutamente questo il modo per lavorare rispetto a tutto questo ricordo che questo lavoro e scusatemi se insisto non è per piageria ma non è neanche per narcisismo questo lavoro che è stato fatto per la prima volta questo anticipo di 45 giorni sulla disponibilità dei docenti è frutto di un lavoro straordinario che hanno fatto le nostre persone è un lavoro eccezionale io ho lavorato fin da febbraio per ridare fiducia voglio ricordare un dato perché sia presente dei 5.900 funzionari che dovrebbero essere in carico al ministero siamo a meno della metà e quindi sarà necessario investire in pubblica amministrazione investire in alte competenze nella pubblica amministrazione investire in struttura nella pubblica amministrazione noi abbiamo in questi mesi lavorato moltissimo nel nostro sistema informativo e come vedete il nostro sistema informativo ci ha permesso di fare quello che non si poteva fare perché se dovevamo fare a mano siamo arrivati anche noi a ottobre però occorrono competenze occorrono competenze nella pubblica amministrazione bisogna investire da qui partono le vie per le riforme del PNRR e però io avrei ambizione di considerare un'unica azione integrata la prima delle riforme voi la sapete bene è la riforma dell'ITS è partita da quest'aula su questa riforma dell'ITS che adesso va al Senato come voi sapete io ho manifestato fino all'inizio tre punti il primo è il massimo di coordinamento fra questa riforma che è la riforma che apre la strada e le altre riforme che stiamo facendo c'è un problema di coordinamento ma adesso siamo in grado anche di delineare la strada delle riforme per le altre quindi facilitare il lavoro di tutti noi per questo maggiore coordinamento abbiamo un punto su cui abbiamo lavorato moltissimo con Cristina Messa che ovviamente è il rapporto tra l'ITS e il sistema universitario il terzo punto è un punto per me importante bisogna salvaguardare le autonomie dell'ITS la loro natura di fondazioni di diritto privato ma bisogna rafforzare di più il carattere nazionale di questa offerta come parte fondante dell'offerta formativa del paese la seconda riforma su cui stiamo lavorando è quella dell'intera filiera tecnico-professionale è una riforma attesa una riforma che tra l'altro mi si permette senza nessuna volontà di critica deve però porre in evidenza in chiara evidenza che alla fine di un ciclo scolastico vi deve essere un adeguato riconoscimento cioè vi deve essere un titolo professionale riconosciuto che deve permettere ai ragazzi non solo di poter proseguire io spero auspicabilmente nell'ITS o nell'università ovviamente ho fatto il rettore tanti anni ma che permetta anche dei percorsi di lavoro riconosciuti per cui insieme con il collega Speranza e con il collega Orlando stiamo ragionando ovviamente di come permettere questi percorsi di inserimento lavorativo nella piena tutela dei diritti dei ragazzi ma anche nella piena tutela degli imprenditori che li vorranno accogliere questo che io voglio chiamare i PIL i programmi di inserimento lavorativo credo che sia un tema importante per le nostre famiglie noi dobbiamo ritrovare quella strada che ci permetta di ridurre questo insensato insostenibile gap fra la formazione e quindi un luogo in cui disperdiamo troppi ragazzi e i bisogni della nostra economia ricucirlo in questo mi si permetta una parentesi da vecchio economista come ho detto recentemente la pandemia ha quasi steso un velo su quello che erano i grandi processi di trasformazione in corso la nostra economia come tutte le economie nel mondo sta vivendo un processo che è stato chiamato quarta evoluzione industriale che trasforma profondamente i sistemi produttivi ma muta in maniera sostanziale il rapporto fra sistemi produttivi e bisogni a cui rispondere si va verso un'economia in cui la capacità di dare risposte mirate in grande dimensione supera il vecchio antagonismo proprio del fordismo fra grandi produzioni di massa e produzioni mirate questo è il cuore tra l'altro della strategia del governo del rilancio dell'economia non si tratta soltanto di cogliere il rimbalzo tecnico di uscita dalla crisi pandemica ma si tratta di trasformare questo in crescita e la crescita in uno sviluppo umano sostenibile sia dal punto di vista economico ambientale ma anche umano ma anche sociale l'unico vero problema che noi possiamo avere in questo percorso che come vedete è già iniziato dando dei risultati notevolissimi riconosciuti anche dall'Ocse e ovviamente è il fabbisogno di risorse umane risorse umane che però voglio ricordare sono l'unica vera ricchezza del nostro paese per questo bisogna investire moltissimo sulla scuola e sull'educazione compresa l'educazione permanente perché noi abbiamo anche un problema di reskilling di tutta la popolazione che già lavora per questo le riforme che sono le riforme di investimento vi chiederanno poi anche una profonda riflessione da parte di tutti noi sul bilancio dello Stato perché bisognerà comunque essere in grado di alimentare quegli investimenti strutturali con una capacità di sostenere in maniera adeguata le riforme che stiamo facendo la prima riforma è dunque quella dell'ITS la seconda è strettamente connessa a quella di tutta la scuola professionale e tecnica compreso il suo rapporto con la IFP quindi con la parte di formazione assistita dalle regioni e gestita dalle regioni la terza a cui attribuisco grande importanza è quella dell'orientamento non possiamo confondere l'orientamento con le giuste attività che alla fine dopo la maturità vengono fatte sostanzialmente per orientare verso un'università o verso l'altra quelle sono attività di informazione giusta l'orientamento parte fin dalle scuole dal passaggio delicatissimo fra scuola primaria e scuola secondaria è da lì che dobbiamo vivere l'orientamento come un accompagnamento con cui noi accompagniamo i loro ragazzi nelle scelte importanti della loro vita il problema dell'orientamento è assolutamente cruciale perché all'interno di questo vi sono anche quelle esperienze anche di lavoro anche di volontariato anche di esplorazione del mondo che ci ha formato tutti non ci siamo formati soltanto nella scuola quanti di noi hanno fatto altre attività che è bene che siano tutelate accompagnate e riconosciute abbiamo poi due riforme che sono assolutamente centrali per lo sviluppo della scuola la riforma del reclutamento è la riforma congiunta della formazione iniziale e continua di tutto il nostro personale su questo punto mi permetto di insistere la riforma del reclutamento è ormai evidente è qualcosa che dobbiamo fare è un qualsiasi reclutamento deve porre al suo centro la formazione dei docenti del personale nel personale metto anche i dirigenti scolastici una scuola istruzione scolastica ormai è un'organizzazione complessa un'organizzazione complessa che dispone di 1500 duemila studenti 150 200 personale e quindi ha bisogno di un'organizzazione complessa un dirigente che a sua volta deve essere in grado di poter usufruire di quella struttura articolata di funzioni che devono essere riconosciute riconosciute e quindi che permettono di gestire anche situazioni complesse come sono quelle delle nostre scuole se poniamo la scuola al centro questa scuola deve essere una scuola riconosciuta come un'organizzazione complessa la formazione noi abbiamo scelto di non creare un'altra struttura ma di fare una scuola di alta formazione come una struttura di direzione di coordinamento delle capacità esistenti nel paese a livello universitario e in tutte quelle istituzioni che servono il principio della formazione la formazione e la formazione continua è fondamentale ricordo che tra l'altro il tema della formazione è uno dei temi fondanti di quel lato di indirizzo che apre la stagione dei contratti perché è chiaro che avendo scaduto il contratto bisogna andare verso un nuovo contratto di tutto il nostro personale il contratto ovviamente come lo sapete non lo gestiamo noi lo gestisce l'Aran però nell'altro indirizzo noi segnaleremo la necessità di dare più valore ai nostri docenti e al nostro personale vi è un problema anche di rispetto sociale che in questi anni si è offuscato vi è un problema sicuramente di risorse vi è sicuramente un tema di formazione e di formazione continua questo è parte contrattuale che ovviamente è affidato alla abili alle capaci situazioni che abbiamo prescritto all'Aran l'ultima riforma che ci viene chiesta è una riforma altrettanto importante che è quello dell'organizzazione presidente dove abbiamo il tema del dimensionamento degli istituti in particolare proprio degli istituti tecnici che oggi abbiamo concentrato soprattutto nei grandi centri urbani che probabilmente dovremmo ripensare in modo da adottare tutto il nostro territorio di questo e della numerosità sulla numerosità voglio fare una riflessione ricordo che la norma attuale quella del 2009 prevede classi fra i 15 e i 27 classi sovranumerari rispetto a questo sono il 2,9% del totale questi sono i numeri questo 2,9% però è concentrato in particolari situazioni cioè essenzialmente gli istituti tecnici professionali delle grandi periferie urbane è lì che dobbiamo agire ed è lì che stiamo agendo le risorse che noi disponiamo anche risorse quest'anno di potenziamento di recupero noi le stiamo spendendo in maniera mirata laddove c'è bisogno non facciamo interventi a pioggia basta interventi a pioggia è finita noi le risorse che abbiamo le mettiamo dove c'è bisogno e lì le abbiamo messe rispetto a questo io voglio ricordare che però c'è una settima riforma a cui ottengo moltissimo che è la riforma della didattica di come si insegna io non sono convinto che l'unità classe possa e debba essere l'unico modo di insegnare c'è una pedagogia vastissima che ricorda come in realtà bisogna uscire da questi schemi come sia necessario trovare modalità molto più riferite alle effettive competenze dei ragazzi e alle effettive modalità di svolgimento non solo per le STEM ma anche per tutte quelle attività che abbiamo chiamato campus che sono quelle di socializzazione pur nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche noi spingeremo affinché le sperimentazioni e le innovazioni scolastiche che pure sono tante diventino un patrimonio generale di tutti sono stato sabato a Valdoviadene per un'iniziativa che vi voglio segnalare che io sosterrò con tutte le mie forze che è questo festival dell'innovazione scolastica sostenuto dall'assessore Elena Donazzano che voglio ringraziare qui perché abbiamo visto che quando poi i presidi insegnanti si incontrano la loro narrazione della scuola è del tutto diversa da quella che purtroppo continuiamo a leggere sui giornali cioè quella di una scuola conflittuale e ferma no la scuola non è né conflittuale né ferma è una scuola attiva dinamica che è ben consa dei propri problemi ma è anche consa delle proprie capacità di superarlo e su questo il Ministero c'è tutto chiudo con questa riflessione Presidente noi nei prossimi mesi avremo un immane compito da svolgere non solo l'attuazione delle singole riforme e l'attuazione dei singoli investimenti ma questa opportunità che ci è data di poter fare della nostra scuola il centro del nostro paese il centro pulsante del nostro paese questo ci impegna tutti io sono a disposizione del Parlamento sempre contestamente continuamente ma credo che anche insieme dovremo condividere questo straordinario cammino che mi pare veramente unico e che non possiamo in nessun modo né sottovalutare né disperdere ringrazio quindi tutti voi non soltanto per avermi ascoltato oggi ma anche per il tanto lavoro che dobbiamo fare insieme grazie grazie signor Ministro passiamo adesso al dibattito cerchiamo di concludere se riusciamo entro le ore 11 e 15 in modo da lasciare il Ministro libero per gli altri suoi impegni il tempo complessivamente disponibile è stato suddiviso tra i gruppi per metà in parti uguali e per l'altra metà in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi quanto all'ordine di intervento darò la parola secondo la consistenza numerica complessiva dei gruppi a partire dal gruppo meno numeroso gli uffici hanno già raccolto le iscrizioni a parlare prima di dare la parola ai vari gruppi Ministro mi permetta a nome appunto in qualità anche di Presidente della Commissione proprio perché abbiamo fatto un grandissimo e continuiamo a fare un grandissimo lavoro molto sinergico e collegiale all'interno della Commissione di mettere l'accento su alcuni punti che lei già ha sollevato ma che io volevo assolutamente sottolineare perché sono temi su cui abbiamo discusso parecchio e per alcuni di questi ci sono stati anche degli atti che sono partiti proprio dalla Commissione lei parlava per esempio del Festival dell'Innovazione Scolastica ecco noi abbiamo una risoluzione molto importante sull'innovazione didattica che è nata prima della pandemia adesso la adegueremo perché chiaramente ha superato in qualche modo un po' i contorni che noi avevamo sviluppato pre-pandemia e quindi su questo troverà la Commissione sempre assolutamente al suo fianco per portarla avanti perché credo che appunto i temi che noi trattiamo vadano assolutamente condivisi un altro argomento su cui personalmente mi sono spesa molto è quello del dimensionamento scolastico noi allo Stato abbiamo una norma che purtroppo come dire è rimasta un'opera incompiuta è stata portata avanti solo per un anno vorremmo che insieme possibilmente nella prossima legge di bilancio si vada a compimento perché se noi parliamo di scuole di qualità credo che al centro debba essere per ogni scuola un dirigente scolastico un DSGA cioè ogni scuola debba essere autonomo per portare avanti la propria offerta formativa mentre il numero delle reggenze delle scuole sottodimensionate soprattutto nei piccoli centri sta crescendo in maniera esponenziale e questo chiaramente pregiudica poi la qualità dell'insegnamento e dell'offerta che viene portata avanti un'ultima cosa mi stanno penso anche a voi arrivando tantissime sollecitazioni per le GPS ci sono in questo momento tantissimi errori tantissimi reclami credo che qualche parola vada detta a vari uffici scolastici regionali da parte del Ministero per avere soprattutto una come dire un modus operandi univoco perché alcuni uffici si stanno comportando in un modo altri in un altro modo quindi una parola da parte del Ministero non sarebbe come dire sarebbe assolutamente gradita quindi la ringrazio come dire penso di avere anche in qualche modo esplicitato il pensiero della Commissione quindi la parola all'onorevole Frassinetti di Fratelli d'Italia per sei minuti prego onorevole grazie grazie presidente buongiorno ministro la ringrazio per questa relazione inizierò questo intervento con una riflessione che purtroppo l'emergenza sanitaria e anche un po' le preoccupazioni che sono legate all'avvio di quest'anno scolastico non mi consentono di intrattenermi sugli argomenti nel merito come la didattica le progettazioni varie per quanto importanti la preoccupazione è proprio su questi punti che andrò visto che il tempo è tiranno ad elencare ad elencare velocemente uno chiedevo delucidazioni sulla questione relativamente la sua dichiarazione che nelle classi in cui tutti i bambini sono vaccinati non si dovrebbe indossare la mascherina a Fratelli d'Italia è sembrata una idea discriminatoria verso i i bambini che non sono vaccinati fermo anche restanto che nessuno esclude che la vaccinazione possa escludere il contagio purtroppo piacerebbe a tutti fosse così ma purtroppo la medicina e la scienza non ci ha dato questa certezza poi a seguire anche una si chiede una delucidazione su a che punto sono le piattaforme per controllare il Green Pass noi abbiamo avuto una posizione contraria anche sostenendo che la percentuale di personale scolastico vaccinata fosse altissima e i dati infatti ci stanno dando ragione pare più del 92% del personale scolastico sia vaccinato quindi chiediamo queste piattaforme perché i presidi sono altrimenti in difficoltà e si sperava che fossero attivate un po' prima dell'inizio dell'anno scolastico proprio per anche una questione procedurale di funzionalità per quanto riguarda le le cosiddette classi pollaio che ancora comunque non sono eliminate questo si va a coniugare con una edilizia ad hoc per risolvere i problemi dell'uso degli spazi dell'aumento degli spazi che anche se c'era tempo non è stata messa in atto fino alla fine questo richiamo alle finestre aperte sinceramente lascia un po' perplessi soprattutto per quanto riguarda le scuole del nord dove qua tra 15 giorni a metà ottobre le finestre aperte sono un problema mi chiedo come mai non si sia investito nei sistemi di areazione che erano stati anche oggetto di una mozione poi votata da tutti all'unanimità che potevano essere sicuramente una soluzione chiedo anche l'eliminazione dell'obbligo del distanziamento come potrà innestarsi in un momento così delicato come l'inizio dell'anno scolastico per quanto riguarda i trasporti resta la preoccupazione soprattutto nelle grandi città dove gli studenti si recono in metropolitane con mezzi pubblici come ci potrà essere un controllo in questi casi per quanto riguarda gli insegnanti noi temiamo che nei primi giorni di scuola siano a rischio le sostituzioni laddove magari mancherà il certificato di Green Pass agli insegnanti mi chiedo anche la ragione per cui alcuni possono entrare nelle scuole come i dipendenti delle cooperative esiste esistono delle categorie che possono entrare senza Green Pass rispetto invece a chi ha l'obbligo come si può contemperare questa discrasia e per quanto riguarda poi la gestione deficitaria da parte di alcuni uffici territoriali come Toscana Lazio Abruzzo Umbria Marche che per alcune classi di concorso non hanno ancora pubblicato la graduatoria mettendo naturalmente in difficoltà queste categorie e mettendo in atto una disparità relativamente agli altri colleghi che hanno già la cattedra assegnata per quanto riguarda i test salivari noi presenteremo insieme al capogruppo Mollicone un emendamento nel primo vettore disponibile per garantire la gratuità di questi kit di tamponi che secondo me sono molto importanti vorremmo sapere se questa proposta verrà accolta e inoltre vorremmo sapere se si intende estendere l'ambito di applicazione dei test salivari anche fuori dall'esperimentazione delle scuole sentinella ora in corso i test salivari a nostro parere questo viene anche dagli esempi di alcune nazioni come la Francia sono i meno invasivi e sicuramente i più economici ecco lo screening è settimanale a nostro avviso può ridurre il contagio può essere una soluzione una soluzione importante ma lo sento troppo poco lo vedo non inserito in quelle che dovrebbero essere le misure più cogenti e più urgenti quindi una scuola che riparte sì ma l'elenco di problematiche che ho appena rammostrato rende l'idea di come esistono delle criticità che non sono state risolte quindi Fratelli d'Italia chiede che ci sia molta attenzione sulle questioni che ho appena posto e solo così potrà iniziare un anno scolastico sereno grazie grazie a lei onorevole Frassinetti onorevole Fusacchia per otto minuti prego grazie presidente proverò a essere anche più breve degli otto minuti ringrazio il ministro Bianchi per essere qui oggi e per averci concesso questa audizione in un momento ovviamente cruciale come la riapertura dell'anno scolastico ogni anno io prendo atto e ovviamente contento di quello che ho sentito dire al ministro rispetto al 13 settembre e quindi al fatto che ripeto avremo tutti i docenti in classe io quello che chiederei al ministro e anche poi agli uffici del ministero è chiaramente di continuare un monitoraggio molto stretto per vedere che cosa succede concretamente questa settimana e anche di fornire presidente per il suo ramido io lo chiedo magari una mappatura anche più dettagliata rispetto a numeri e dati di quello che succederà nelle varie regioni nelle varie scuole d'Italia in modo che questa commissione possa aiutare e collaborare con il ministero affinché laddove si creino delle situazioni dove ci sono ancora delle criticità noi con il nostro ruolo di parlamentari possiamo aiutare a fluidificare le comunicazioni a rafforzare i rapporti poi fra anche i territori e il ministero due o tre punti molto veloci che volevo segnalare al ministro il primo è che sono poi delle domande il primo è chiedere qual è la situazione invece sui collaboratori scolastici e in generale su tutto il personale non strettamente docente perché almeno per quello che riguarda il ritorno che ho io da alcuni territori la situazione non è ugualmente come dire totalmente sotto controllo nel senso che molte scuole molti presidi lamentano il fatto che ci sono gli insegnanti o stanno arrivando gli insegnanti ma in mancanza di organici in alcuni casi perché non sono stati assegnati in alcuni casi perché sono ma mancano proprio strutturalmente diventa complicato organizzare gli orari completi quindi poi l'avvio dell'anno scolastico è comunque in parte messo a repentaglio a questo è collegato l'organico covid il cosiddetto organico covid su cui volevo chiedere appunto al ministro qual è la situazione e se si sente come dire sereno su questo come si sente sereno sui docenti e poi volevo infine citare un paio di non entro presidente ho apprezzato il ministro abbia fatto riferimento a delle riforme strutturali ma insomma avremo modo fiducia nelle prossime settimane di tornarci quindi volevo tenermi sull'avvio dell'anno scolastico in senso stretto ho un paio di punti che volevo invece citare per quello che riguarda diciamo non l'avvio in senso stretto di avere tutte le persone a loro tutti i dipendenti al ministero al loro posto ma quello che succede una volta sono al loro posto e qui ci sono due questioni uno è che ovviamente noi faremo di tutto questo l'ho sentito dire al ministro l'ho sentito dire al presidente Draghi ovviamente tutti noi siamo impegnati per evitare che si torni a distanza ovviamente quindi che la scuola sia in presenza per fare in modo che la scuola sia in presenza detto questo ministro io avevo posto un quesito in aula sui protocolli relativi alla DAD ho capito poi l'ho sentita anche in fare interventi successivi sul fatto che i protocolli con le società private che hanno gestito la didattica a distanza da un punto di vista infrastrutturale di piattaforme erano stati resi pubblici dal ministero io sarà per mia difficoltà faccio ancora un po' fatica a trovarli in maniera insomma facile sul sito comunque disponibili quindi le chiederei un supplemento di attenzione su questo perché credo che sia un atto dovuto nei confronti dei genitori delle famiglie degli stessi studenti e quindi se lei potesse tornare a intervenire su questo gliene sarei grato infine ricordo quello che ha detto la presidente anche noi abbiamo un'indagine conoscitiva sull'innovazione didattica e digitale che avevamo avviato in tempi non sospetti francamente quasi un anno prima del covid eravamo quasi arrivati a chiuderla prima del covid ci siamo fermati ovviamente ci rendiamo conto che oggi non dico bisogna ricominciare ma sicuramente bisogna fare un secondo ciclo di audizioni io pubblicamente le volevo chiedere la massima collaborazione del ministero anche a poter audire una serie di dirigenti del ministero e di funzionari dirigenti del ministero che ci vengano a raccontare qual è la loro esperienza di questo periodo di questo anno e mezzo perché ovviamente possiamo trarne poi delle conclusioni nell'indagine e delle proposte che siano il più puntuale utili alla causa della scuola italiana il più utili possibili infine ministro io ho bisogno di chiederle una garanzia perché oggi siamo all'inizio di settembre siamo all'inizio dell'avvio dell'anno scolastico capisco da quello che dice che la situazione è migliore degli anni precedenti che probabilmente non avremo grandissime difficoltà a avviare quest'anno scolastico a un punto di vista di gestione delle procedure di missione e ruolo il paese un retropensiero che a un certo punto se succede qualcosa con la pandemia richiudiamo la scuola ce l'ha io ho bisogno di sentire da lei che c'è una garanzia assoluta che l'impegno prioritario del governo è che la scuola italiana non richiude qualsiasi cosa succeda da un punto di vista sanitario perché siamo attrezzati dopo due anni due estati due inizi di anno scolastico a gestire con mille difficoltà con mille complessità ma a gestire la scuola italiana in una situazione per cui non avremo più quel riflesso che in passato è stato ahimè in alcun paio di situazioni un po' troppo facile e naturale di dire è arrivata la pandemia si chiude si chiude il potere la scuola io penso che se non chiudiamo gli ospedali e non chiudiamo le forze di polizia tanto per citarne un altro noi non chiudiamo la scuola quindi mi piacerebbe che in maniera complementare alla gestione della complessità dell'avvio dell'anno scolastico che lei ha seguito quest'estate e da febbraio come diceva insieme agli uffici che anch'io voglio ringraziare i suoi uffici e uffici del ministero di diretta collaborazione e gli altri che ci sia anche un impegno una garanzia che nel frattempo il ministero e lei personalmente ha lavorato ovviamente per assicurare tutto quello che non è solo la gestione ordinare dell'avvio dell'anno scolastico che già ha una sua enorme complessità ma anche tutte le procedure e le operazioni che servono perché se fra un mese due mesi o tre mesi siamo in una situazione non prevedibile che nessuno si augura però abbiamo visto quanto è imprevedibile questo periodo storico noi siamo attrezzati per un piano di non di emergenza un piano strutturale di gestione dell'emergenza che però è un piano strutturato e pensato che ci permette di non chiudere la scuola grazie grazie a lei onorevole Fusacchia onorevole Aprea per sei minuti e poi seguirà l'onorevole Cascello per tre prego grazie presidente ministro Bianchi nell'augurarle buon anno scolastico ne ha bisogno utilizzerò poco del tempo che ho a disposizione per parlare di Green Pass anche perché la posizione di forza etale è nota e chiara al riguardo la scuola è un servizio pubblico essenziale che prevede l'obbligo di frequenza fino a 16 anni e per questo deve essere garantito in sicurezza sempre per questo deve essere come servizio garantito in sicurezza se in presenza come richiamato in modo fin troppo esplicito dal decreto 111 nel quale probabilmente sarebbe bastato accennare alla necessità di garantire un regolare svolgimento delle lezioni didattiche prevedere la scuola in presenza per decreto ci è sembrato insomma più un ossimoro che è una vera e propria disposizione di legge ma tant'è l'indicazione è chiara in ogni caso bene ha fatto il governo prevedere il possesso dei Green Pass per gli operatori della scuola anche se stiamo ancora in queste ore rincorrendo le modalità di controllo da parte dei dirigenti scolastici e mentre sembra superato questo problema con la predisposizione della Super App della piattaforma digitale per il controllo degli accessi che verrà messo a disposizione dei dirigenti scolastici come lei ci ha appena confermato si presenta ora il problema dei controlli del possesso dei Green Pass da parte degli studenti soprattutto in considerazione della disposizione di legge che prevede il non uso della mascherina in caso di classi frequentati da studenti tutti vaccinati peraltro ripresa con enfasi da lei alla presenza del Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa del 2 settembre ultimo scorso sarà necessario predisporre anche in questo caso una nuova piattaforma come lei ha fatto intendere ma i problemi non mancheranno per i numeri 8 milioni di studenti per le diffide che le famiglie stanno inviando in queste ore i dirigenti e docenti rispetto alla richiesta di privacy sulle vaccinazioni dei loro ragazzi e soprattutto perché Ministro ancora una volta il Ministero fa riferimento esclusivamente all'unità classe per riferirsi all'organizzazione scolastica mentre è noto che da tempo soprattutto nelle scuole superiori i gruppi classe si scompongono nei laboratori nelle palestre o nell'attività per esempio all'alternanza scuola-lavoro insomma se doveva essere uno strumento di moral suasion probabilmente previsto così finirà per produrre l'effetto contrario sembra ormai di essere davanti San Ministro ai videogiochi dell'horror dove sconfiggi un mostro e ne compaiono di più pericolosi e invincibili è bene allora che il Ministero come lei ha appena ricordato predisponga piattaforme digitali linee guida ma fino a quando la situazione epidemiologica non rientrerà nei livelli di basso rischio di contagio forse è meglio davvero mantenere tutti gli strumenti di prevenzione che tutto il personale si è immunizzato all'inizio dell'anno scolastico e propone alle regioni test salivari periodici per monitorare la circolazione del virus nelle scuole insomma ancora una volta le 3T testare tamponare tracciare e soprattutto Ministro limitare il tempo in presenza alle attività didattiche assolutamente indispensabili per queste ragioni esprimiamo riserve anche su ripristino dell'ora 60 minuti perché proprio in fase pandemica va previsto un tempo inferiore di lezioni in presenza magari con intervalli più lunghi per consentire una maggiore reazione degli ambienti e concordo con quello che diceva la collega Frassinetti non soltanto tenere le finestre aperte che si sa al nord diventa un invito ad ammalarsi diversamente piuttosto che ad avere il contagio da covid confido che a tutti questi problemi troveremo soluzioni accettabili con la fase emendativa al decreto 111 in discussione alla Camera forse Italia non mancherà di fare la propria parte ma c'è un altro problema che mi inquieta ancora di più mi riferisco alle recenti missioni in ruolo che lei ministro ha giustamente vantato come un successo e lo è sicuramente in termini quantitativi non so se possiamo dire altrettanto in termini qualitativi la prima preoccupazione dell'amministrazione scolastica dovrebbe essere infatti non solo di natura quantitativa e cioè quanti insegnanti selezioniamo ma quali insegnanti e con quali competenze purtroppo questa fase emergenziale determinata dalla pandemia ha portato i governi di questi anni a decidere per selezioni confuse molto più rispettose delle vecchie logiche ministerial sindacali che se si preoccupano di ricorsi amministrativi di rispetto formale delle coperture di docenze dell'ambiodanno delle disposizioni europee che impongono l'assunzione del tempo indeterminato dei peccati sono del tutto indifferenti salvo che nella forma vuota della predicazione generica all'obiettivo di selezionare i docenti realmente in possesso delle competenze professionali riconosciute a livello internazionale correndo così il rischio di trasformare la scuola statale nella più grande agenzia centralizzata di collocamento per laureati disoccupati e sottooccupati esistenti al mondo non ha fatto eccezione neppure quest'ultimo decreto sostegni bis che sotto il cappello appunto del regolare via di insodoro scolastico in una stessa legge ha previsto ben 4, 5, 6, 7 modalità diverse di missione e ruolo insomma abbiamo tra l'altro trascurando la grave situazione dell'assenza di abilitati nelle scuole paritarie per di più abbiamo derogato tutti i requisiti di formazione universitaria dei candidati al concorso STEM insomma la fase emergenziale anziché spingere il governo e in questo caso il Parlamento anche verso obiettivi più ambiziosi più efficaci ha giocato a ribasso provocando confusione da una parte differenze sostanziali tra i know-how posseduti tra i diversi docenti un caos annunciato un facita muina che al di là della propaganda sui numeri sui posti che verranno coperti non aggiungerà valore aggiunto se non per qualche eccezione e soprattutto non sarà in grado di superare le criticità croniche della scuola italiana è così il cosiddetto personale Covid quando verrà assegnato per esempio alle scuole con quali competenze ma veniamo al problema più generale ministro che fare ora parto da un caso limite caso limite ministro Bianchi per rivolgerle subito dopo una precisa richiesta tra i tanti insegnanti immessi in ruolo dalle GAE colleghi abbiamo chiamato a svolgere un incarico a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia una signora di 56 anni praticamente una nonna dei bambini frequentanti le sezioni dell'infanzia che possiede il titolo di studio di scuola del grado preparatorio qualcuno si ricorda ancora cos'è la scuola del grado preparatorio un diploma di scuola superiore triennale superato da tantissimi anni che ha questa docente ormai solo dal 2015 accettati incarichi negli asili nido non ha mai frequentato nessun corso di formazione relativo alle indicazioni nazionali vigenti né tantomeno conosce si orienta nell'ambito della didattica digitale un caso limite ministro non lo so forse però se io ne ho intercettato più di uno sicuramente sono tanti in Italia allora a questo punto per avere a disposizione una nuova generazione di docenti docenti non solo nel senso letterale nuovi del termine più docenti ma docenti del terzo millennio che da nativi cartacei devono digitare devono diventare almeno nativi devono diventare devono almeno essere competenti sul piano digitale e trasformarsi indocenti tutor e coach dobbiamo fare qualcosa cosa le chiede Forza Italia di effettuare estrazioni descrittive estrazioni descrittive del SIDI sistema informatico dell'istruzione per giungere attraverso i dati dell'età del sesso dei titoli di studio no è quello ma no è quello perciò lo dico no ma cosa dobbiamo fare onorevole arrivate all'idea no 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 scusi presidente concludo in breve tempo all'identikit e fare il tavolo no fare non c'è questo un tavolo un tavolo che abbia presenti università indire invalzazioni sindacali dirigenti e docenti per capire i bisogni formativi reali dei nuovi docenti e organizzare la formazione perché comunque questi docenti dovranno fare un anno di formazione sia che abbiano il contratto a tempo determinato che indeterminato come si svolgerà questa formazione si deve decidere con un roba strategica scientifica perché la situazione è grave non affidata così al caso tanto per grazie la storia la storia ci ha raccontato cose diverse allora noi chiediamo un cambiamento e adesso la qualità degli insegnamenti e degli apprendimenti deve essere messa sotto la lente di ingrandimento perché non ce lo possiamo permettere il learning loss gli apprendimenti perduti stanno determinando una situazione grave che non ci permette di tollerare situazioni onorevole Cascello vediamo il futuro vediamo da adesso poi può replicare ministro poi può replicare dopo onorevole Cascello tre minuti grazie cercherò di essere nei tre minuti assoluti affidandomi alla capacità di sintesi si parla nella vella persa allora vado per step ministro grazie presidente c'è un problema reale per l'inizio dell'anno scolastico per la difficoltà dei dirigenti di predisporre gli ingressi di organizzare le lezioni secondo quanto previsto dalla normativa covid e questo per problemi anche minimi vuoi per gli ingressi secondari da abilitari a ingressi primari questi problemi da dove nascono nascono dall'incapacità soprattutto delle amministrazioni provinciali nonostante siano arrivati dei fondi importanti di intervenire nei tempi indispensabili che estretti per l'inizio dell'anno scolastico noi personalmente siamo tempestati di richieste di intervento in questa video che annuisce anche il presidente perché anche questo fa parte del nostro lavoro poi le segnalo due cose per l'edilizia scolastica bisogna sicuramente trovare una strada diversa le faccio l'esempio della Campania la regione Campania negli anni scorsi con i fondi europei ha avuto a disposizione e ha impegnato disposto per circa 20 milioni di euro negli anni sono stati portati a compimento solamente opere per 2 milioni di euro quindi bisognerà restituire o revocare una serie di finanziamenti perché finché siamo legati all'ipotesi del progetto esecutivo che le amministrazioni comunali dispongono nella fretta e a volte non nella totale incompetenza dei tecnici la traduco in maniera semplicistica pur di avere il finanziamento dice no bastano un milione e mezzo l'intervento mentre invece ne servono due due e mezzo il risultato la scuola l'istituto non viene completato e diventa una delle tante opere non portate a compimento con revoca dei fondi questa è una strada che bisogna una soluzione bisogna trovarla anche alla luce dei prossimi interventi finanziari perché altrimenti ci troveremo con una serie di opere incompleta nel tempo soprattutto con i tempi set che ora ci indica l'Europa e allora una strada quale potrebbe essere probabilmente quella di suddifattibilità per dire delle verifiche continue che so che pure ci sono ma che vanno fatte a monte e con magari una forbice di intervento che non faccia di un intervento finanziario che non faccia perdere i fondi ma in tempi stretti per il completamento non so se sono stato chiaro infine due due problematiche soprattutto inizio dell'anno scolastico il primo l'ha già accennato il presidente casa i dirigenti e i amministrativi c'è stato un concorso soprattutto io ho anche presentato in questo senso un'interrogazione per dire il merito va riconosciuto e premiato chi è vincitore di concorso non può essere non chiamato e non vedersi assegnato l'incarico che gli spetta in qualità di vincitore di concorso io rispetto anche quelli che hanno vengono nominati per prorogo con gli interpelli ma i vincitori di concorsi le faccio ancora una volta l'esempio della campagna per i vostri disponibili non possono essere scavalcati con gli interpelli quindi anche negli interpelli c'è necessità di mettere di riservare dei posti per i vincitori di concorso mi sembra il minimo della logica infine il stemma molti posti vacanti poche soluzioni in questo senso anche su questo mi sarei predisposto a presentare una una interrogazione specifica riguardante gli stem la mia preoccupazione è che è stato anche disposto un ministro è stato anche inviato alla sua attenzione un documento degli operatori dei docenti del settore anche lì in presenza dei vincitori di concorso e l'altro con mancata convocazione ci sono i posti vacanti è indispensabile puntare e premiare anche il merito altrimenti anche quello che diceva la collega Prea non voglio arrivare sulla formazione ma proprio un primo segnale deve essere quello di riconoscere chi ha raggiunto già degli obiettivi quindi colgo l'occasione per ricordarle anche se non è possibile oggi nella risposta sia per i dirigenti amministrativi che per gli stem le due interrogazioni che una già le sarà stata inviata e l'altra che le sarà inviata in giornata grazie onorevole Piccolina Artelli per dieci minuti prego grazie presidente grazie ministro ho l'impressione che abbiamo avuto se mai ce ne fosse stato bisogno in questi ultimi giorni la conferma dell'importanza per il nostro paese di quella che è l'istituzione scuola perché è al centro e lo vediamo in continuazione di quello che è l'interesse più ampio del paese per chi è coinvolto direttamente per chi non è coinvolto direttamente ma si rende conto che per il futuro noi abbiamo bisogno davvero di un progetto sulla scuola e mi pare che l'esposizione del ministro oggi questo di questo abbia dato conto e di questo noi gli siamo particolarmente grati la posizione del partito democratico sul green pass sulle norme di sicurezza da assicurare alla scuola per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza ma per confermare il fatto che le scuole rimangano aperte in presenza è noto credo ministro l'unica cosa che noi le chiederemo è di adoperarsi come lei ha già fatto in molte occasioni per armonizzare quelli che sono gli interventi che sono stati fatti in questi ultimi giorni in queste ultime settimane per cercare di rendere possibile tutta una serie di chiarimenti necessari per la riapertura delle scuole quindi piccole discrasie o chiarimenti che vanno dati perché i dirigenti scolastici non si trovino in difficoltà e che noi rileviamo nel momento in cui siamo fra l'approvazione di un green pass 1 e la programmazione degli emendamenti che dobbiamo prevedere per il decreto 111 cioè il cosiddetto green pass 2 naturalmente su quello che è l'applicazione di quelle che sono le norme da applicare anche alle scuole non paritarie oppure il discorso degli ITS e del sistema di formazione professionale per valutare se valgono anche per loro naturalmente le realtà previste per le altre scuole tutte cose su cui non mi soffermo Ministro perché sono quelle note che già sono emerse dagli interventi dei colleghi ma che credo si potranno sanare e sistemare in una maniera coerente e omogenea con relativa facilità in questi giorni altrimenti saremo pronti naturalmente a intervenire sul green pass 2 per cercare appunto di aiutare da questo punto di vista io quello che voglio fare Ministro è darle conto e darle merito di un lavoro che è stato fatto in questi mesi credendo davvero nella scuola e nella possibilità che la scuola possa affrontare e risolvere i problemi pesantissimi che in questi due anni si sono presentati è stato un investimento sull'autonomia scolastica sugli insegnanti sui docenti sul Ministero su di noi e quindi ho l'impressione che davvero questo inizio di anno scolastico parta con prospettive che sono di consapevolezza e di orgoglio e di dignità della scuola italiana quindi saremo compatti a cercare di sostenere e di aiutare questo processo c'è un secondo punto però Ministro che mi sembra molto importante risolto o affrontato comunque o messi nelle condizioni migliori per affrontare il problema della riapertura della scuola post pandemia o in epoca di una pandemia affrontata con vaccini e con nuovi sistemi noi crediamo fortemente che sia necessario che la scuola si ripensi con queste progettualità di cui lei ha parlato con questa idea di una riorganizzazione della scuola con l'idea di una riforma della didattica Ministro a cui noi crediamo che crediamo sia fondamentale per cercare di sanare quella separazione che troppo spesso rileviamo fra quello che è il mondo che i ragazzi vivono all'interno della scuola e il mondo che vivono fuori dalla scuola nella loro realtà quotidiana noi sappiamo che questo è un problema molto pesante che le famiglie rilevano che emerge da tanti aspetti bene sono convinta che da lì noi dobbiamo partire ma che dobbiamo poi tener conto delle varie questioni che sono state affrontate compreso il problema dell'orientamento ripensato come un accompagnamento vero che consenta di arrivare a un progetto che superi il problema di una incapacità di coordinare in maniera corretta quello che è un titolo scolastico e quello che è il mondo del lavoro quindi dobbiamo davvero pensare a momenti diversi e questi momenti devono essere però coerenti fra di loro come mi pare si stia pensando nei lavori preparatori che prevediamo per i prossimi mesi io mi soffermo ancora ministro su un problema che è quello di cui lei ha parlato che è il problema che ci ha molto tormentato nei mesi passati quello del reclutamento e della formazione e mi soffermo per chiederle se c'è già un quadro complessivo se possiamo parlare di una previsione di tempi che rassicuri da questo punto di vista e che veda il modo e i tempi per mettere in moto la procedura su tre questioni importanti su quello che è il concorso ordinario che noi sappiamo mobilita le speranze e le energie di molti giovani che si sono dedicati o che sperano di dedicarsi al mondo della scuola e che sono una delle risorse importanti per noi e per il nostro paese ma anche pensando a quando si potrà mettere in moto e come si potrà mettere in moto quella procedura straordinaria prevista dal comma 9 bis dell'articolo 59 che noi avevamo visto vedendo se e come quella possa essere anche una soluzione per qualcuno dei problemi che sono rimasti in sospeso compreso quello delle graduatorie che arrivano fuori tempo massimo e che rischiano di far perdere un anno a degli insegnanti fra l'altro che vincono i concorsi e che quindi sono insegnanti meritevoli ecco trovare un'armonizzazione da questo punto di vista e ultima cosa trovare anche da questo punto di vista il modo per mettere in moto il meccanismo delle abilitazioni che sono già bandite ma che ancora non si svolgono e che noi sappiamo è molto importante per rimettere insieme quell'ultimo punto per noi importante che è quello delle scuole paritarie per cercare di riportarle a una condizione di organizzazione regolare che consideriamo uno dei punti strategici per il sistema scolastico del nostro paese da un punto di vista nazionale ecco ministro questo misto di soluzioni di attenzione e coordinamento sull'oggi che noi abbiamo visto lei ha messo in moto il ministero ha messo in moto e che le chiediamo di completare da un lato e dall'altra di aiutarci a pensare in termini concreti e pratici a questo passaggio intermedio che è quello appunto sul reclutamento e la formazione e aiutarci davvero a pensare tutti insieme a quello che è un grande progetto scuola che noi pensiamo sia un passaggio indispensabile in questo momento per il nostro paese grazie onorevole piccoli nardelli do la parola all'onorevole patelli per 12 minuti prego onorevole grazie presidente signor ministro ringrazio per la sua presenza oggi per aver voluto condividere con noi le linee guida che auspico che permettano un avvio dell'anno scolastico in presenza e in sicurezza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e su tutto il territorio nazionale con riferimento a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 111 dello scorso 6 agosto che ci apprestiamo a convertire in legge vorrei portare alla sua attenzione alcuni profili che turbano fortemente la comunità dei dirigenti scolastici che continuano a lavorare allacremente e a dimostrare grandi capacità e splendida dedizione al lavoro i dirigenti sono tenuti a verificare quotidianamente che tutto il personale scolastico sia in possesso del green pass e nel caso in cui si riscontri che un dipendente non lo abbia deve considerarlo assente ingiustificato se l'assenza ingiustificata si protrae per 5 giorni il dipendente sarà sospeso dal servizio orbene in primi sbalza agli occhi che il dirigente deve registrare l'assenza del dipendente ma non è esplicitato in alcun modo che possa impedirgli l'accesso a scuola lasciando dunque che il soggetto possa recare pregiudizio alla salute della comunità scolastica poi la nota tecnica firma del dottor Versari prova a chiarire il tema delle sanzioni a carico del personale scolastico si legge che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per cui la violazione è prevista alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ma è doveroso considerare che soprattutto in ipotesi di contenzioso difficilmente la sospensione dal servizio potrà configurarsi come sanzione amministrativa essendo evidentemente facilmente riconducibile alla fattispecie dei provvedimenti disciplinari che non possono essere combinati dai dirigenti scolastici bensì unicamente dall'ufficio scolastico regionale e quindi signor ministro sui dirigenti scolastici grava il pericolo di dover rispondere di danno erariale nel caso in cui nominino un supplente per sostituire il dipendente sospeso e quest'ultimo rientri a scuola senza adeguato provviso ma in possesso di Green Pass generando la compresenza di due figure su uno stesso posto e vorrei sapere se non ritenga necessario agire subito prima del rientro in classe degli studenti per chiarire in via definitiva questi temi che di fatto pregiudicano il lavoro oltre la serenità dei dirigenti scolastici chiamati a responsabilità che esulano da quelle proprie del loro incarico poi altro tema quello delle mascherine che già ho sentito da alcuni colleghi il problema delle mascherine sì per tutti per chi ha il Green Pass non vorrei appunto che questo facesse nascere delle discriminazioni tra chi le deve obbligatoriamente indossare e chi può magari farne a meno perché vaccinato se garantito il distanziamento inoltre chiederei la possibilità di poter sperimentare la piattaforma che sostituirà il controllo del Green Pass dal 13 settembre la PN di GC in modo da essere pronti ad affrontare eventuali imprevisti di funzionamento e altra cosa con il nuovo anno scolastico ormai alle porte io veramente lo dico sinceramente apprezzo l'impegno del Ministero dell'Istruzione per una scuola in presenza e in sicurezza e le rinnovo però quelle che sono le priorità della Lega ovvero l'estensione dell'uso dei tamponi salivari rapidi per rafforzare il monitoraggio e il tracciamento i sistemi di areazione forzata a ciclo continuo i sistemi di ventilazione meccanica e il recupero del calore la soluzione dell'annosa questione dei docenti precari attraverso la stabilizzazione in ruolo e il pass la contrarietà all'obbligo vaccinale per il personale della scuola che ha già risposto alla campagna di immunizzazione con percentuali altissime qualcuno dovrebbe spiegarci se con questi numeri sia di buon senso parlare di obbligo vaccinale per il personale scolastico perché i dati al 3 settembre parlano del 92% di vaccinati lo avevamo detto lo avevamo detto già a fine luglio e saremo arrivati a questa cifra ai primi di settembre durante la discussione sul Green Pass al 30 settembre saremo probabilmente al 95% a questi bisogna aggiungere i guariti non vaccinati i lavoratori fragili e altre categorie che per condizioni personali non possono vaccinarsi sfiorando in tal modo circa quasi il 100% che senso ha parlare di obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola è una richiesta che forse è dettata più da un'ideologia che da un'area della necessità giusto informare giusto accompagnare giusto promuovere i vaccini io sono vaccinata la mia famiglia è vaccinata il mio figlio è vaccinato ma non imporla poi altri temi ovviamente il nostro problema delle classi pollaio e anche magari cercare di risolverlo ricorrendo alle risorse previste dal PNRR per migliorare la qualità della didattica un po' più di attenzione alle scuole paritarie che sono in grave sofferenza questi sono appunto i temi che la Lega ha già presentato un anno fa in parte però non sono ancora stati realizzati noi ci siamo e ci saremo e a proposito del suo legittimo intervento di prima e nel quale diceva basta interventi a pioggia perché io lo capisco benissimo che sia più che legittimo però mi permetta di farle solo presente che proprio nella mia città purtroppo in queste settimane si sta verificando un gravissimo problema in uno degli istituti più grossi di 1200 allievi è stato trovato l'amianto sotto delle piastrelle e di conseguenza l'ARPA ha deciso che la scuola venisse chiusa quindi noi ci troviamo in questo momento nella città di Biella con una delle più grosse scuole perché fa da liceo classico liceo linguistico e liceo artistico con circa 1200 ragazzi che non si sa bene come Biella sì istituto Sella anzi liceo Sella sì sì certo sì ecco se si potesse evitare di nuovo anche per quest'anno lo spettro della DAD per questi studenti io veramente le sarei davvero molto grata trovando soluzioni alternative ci stiamo già muovendo con la provincia però non basta abbiamo bisogno di di aule in più con questo concludo e la ringrazio grazie onorevole Patelli do la parola all'onorevole Carelli per Coraggio Italia per sei minuti prego grazie presidente grazie ministro per la sua relazione puntuale dettagliata abbiamo apprezzato soprattutto alcuni punti in particolare l'impegno preso di avere tutti i docenti per la prima volta al loro posto all'inizio dell'anno scolastico penso che sia un risultato molto importante gli ottimi risultati per gli esami soprattutto di maturità fatti in presenza nei mesi scorsi e poi anche da non sottovalutare l'utilizzo completo finalmente dei fondi europei con anche un loro relativo incremento ecco resta in me un po' un interrogativo lei ha dichiarato nei giorni scorsi interrogativo già esposto anche da qualcun altro che mi ha preceduto lei ha dichiarato che nelle classi con tutti gli alunni vaccinati non ci sarebbe più stato l'obbligo di mascherina vorrei sapere se questa regola questa disposizione verrà confermata e l'altro interrogativo riguarda poi l'edilizia scolastica sappiamo tutti che è un problema irrisolto resta quello della capacità delle aule spesso troppo anguste si è parlato anche prima da chi mi ha preceduto di aule pollaio ecco troppo anguste per consentire il giusto distanziamento cosa sta facendo il ministero per risolvere questo problema c'è un piano in tal senso anche perché siamo giunti all'apertura di un nuovo anno scolastico tutti i nostri studenti da qui a poco torneranno sui banchi e la sfida di garantire la presenza al 100% in sicurezza resta secondo noi l'obiettivo principale che soprattutto grazie alla campagna vaccinale sembrano mai a portata di mano e ciò nonostante lo spettro di nuove chiusure alleggia sempre nell'aria a pochi giorni dall'inizio come Coraggio Italia sentiamo il bisogno di chiedere un impegno al ministero ancora maggiore di quello già profuso di fare il tesoro dell'esperienza passata per colmare vuoti per colmare lacuna che abbiamo lasciato a giugno e consentire una reale ripartenza del nuovo e complesso anno scolastico ogni scuola lo sappiamo oggi è impegnata a disciplinare il proprio piano d'azione e il proprio protocollo di sicurezza anche per l'organizzazione dell'ingresso e dell'uscita dagli edifici scolastici in modo da integrare il regolamento di istituto con l'eventuale previsione di ingressi e uscite scaglionate e con l'utilizzo di accessi alternativi siamo convinti che debbano restare le misure già in atto il metro di distanza l'obbligo delle mascherine l'impossibilità di accedere o permanere quando la temperatura corporea supera i 37,5 gradi il rispetto delle ordinarie norme igienico-sanitarie di aerazione e sanificazioni e poi il green pass il green pass molto importante secondo noi nonostante tutte le polemiche dei contrari che è diventato essenziale per poter lavorare nelle scuole in ogni veste docente o personale alta che sia il TAR del Lazio lo sappiamo tutti ha respinto chiarendo in via definitiva la questione ha respinto il ricorso di alcuni rappresentanti del personale scolastico che chiedevano di sospendere i provvedimenti adottati dal ministero invece i dipendenti privi di green pass saranno sospesi dal loro lavoro e perderanno il diritto al trattamento retributivo la decisione dei nostri giudici amministrativi in tal senso ha riaffermato un principio di convivenza democratica la condividiamo totalmente e la commissione affari sociali giustamente ha anche approvato la proroga di validità del green pass a 12 mesi stabilendo per temperare la questione che per ottenere la certificazione saranno anche validi i testi salivari oltre che antigenici e nasofaringei ecco come Coraggio Italia qui concludo riteniamo che la presenza fisica in classe sia un momento indispensabile nel percorso di sviluppo culturale psicologico di formazione e di strutturazione della personalità di ogni alunno spetta innanzitutto a noi garantire ogni strumento affinché la scuola sia all'altezza del suo compito principale cioè formare alla vita compito che però non può essere realizzato a distanza o dietro a uno schermo il nostro impegno è essere presenti intervenire non arrenderci per garantire la ripresa e il mantenimento di sicurezza delle attività e delle relazioni tipiche dell'essere e fare scuola concludo con un caloroso augurio per i nostri studenti le loro famiglie e anche a tutti i docenti grazie grazie onorevole Carelli do la parola all'onorevole Carbonaro per 14 minuti prego grazie mille credo che userò un po' meno dei 14 era l'intesa anche del collega Bella che dovrebbe arrivare a intervenire anche lui su un'altra parte buongiorno a tutti ben trovati grazie Ministro per la sua relazione credo sia bello che i lavori parlamentari si aprano proprio con un punto sulla scuola e sull'avvio dell'anno scolastico e credo che come Commissione Settima sia stato sempre un punto che abbiamo sollecitato sostenuto e oggi io la ringrazio anche per i numeri che ci ha dato sicuramente è bene se la scuola partirà con le cattedre coperte è un aspicio che tutti quanti avevamo bene se si procederà in questa direzione la ringrazio anche per i numeri che ha dato sulle missioni e ricordo che infatti anche parte come avevo detto già qualche giorno fa di quei docenti derivano dal concorso straordinario che aveva bandito anche l'ex ministra Zorina quindi sicuramente è un lavoro un lavoro importante un lavoro corale mi unisco anche io ai ringraziamenti degli uffici che stanno lavorando estenuamente in queste settimane qualche domanda puntuale sull'organico covid come le sa noi abbiamo sostenuto anche con un emendamento il fatto che questo organico venisse utilizzato per sdoppiare le classi riteniamo che sia importante che l'utilizzo vada in questa direzione per cui quello che le chiedo è se è vostra intenzione come ministero noi credo che se avremo occasione riproporeremo questo emendamento perché è importante se in parte vengono usati per il recupero dall'altra è fondamentale che vengono utilizzati per sdoppiare le classi garantire quel distanziamento di cui ovviamente si è parlato e molti colleghi hanno parlato prima di me un altro tema importante che le ha sollecitato e la ringrazio è quello delle classi Pollai un tema che come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre portato all'attenzione del dibattito pubblico tant'è che abbiamo depositato e avevamo incardinato una discussione sulla legge per l'abolizione delle classi cosiddette Pollaio sovraffollate lei parla di un 2,9% di classi su queste le chiedo avete conteggiato anche l'infanzia c'è anche il conteggio dell'infanzia su queste classi e lei parla appunto di un lavoro puntuale su queste classi Pollaio non di finanziamenti a pioggia in questo senso le chiedo come intenderete muovervi se c'è già appunto un dialogo con il MEF si lavorerà nella prossima legge di bilancio perché per noi è una battaglia importante e da questo punto di vista chiaramente avrà il nostro appoggio e supporto riteniamo che sia fondamentale garantire ai ragazzi la qualità una qualità di apprendimento elevata e soprattutto grazie a un miglioramento della disposizione degli alunni per classi questo potrebbe essere ancora più possibile e quindi questa è la seconda la seconda domanda che le pongo e la terza devo dire mi ha anticipato la presidente casa in merito al dimensionamento una misura che è stata accolta con grande entusiasmo anche su questo noi le chiediamo c'è intenzione di portarla avanti e parliamo della prossima legge di bilancio perché ormai tra qualche mese sarà l'appuntamento chiaramente importante per lavorare sui fondi per il finanziamento delle attività legate alla scuola per cui anche se su questo il ministero intende commuoversi affinché si possa garantire una misura che devo dire è stata accolta con entusiasmo e noi avevamo lavorato molto affinché questo fosse appunto possibile mi fermo qui e visto che è anche arrivato il collega ok grazie quindi do la parola all'onorevole Bella che è arrivato prego l'onorevole ok grazie presidente grazie colleghi io vi sentivo insomma in audio allora ministro ho sentito tutti i colleghi che hanno ripeto l'importanza della scuola in presenza non mi ripeto anch'io per quanto sia veramente importante questa cosa però c'è per in effetti noi quello che abbiamo visto è stato che quando le scuole con tutto il Parlamento sono state riaperte aprile qualcuno diceva la curva epidemica sarebbe schizzato ci sarebbe stato diciamo la scuola motore del contagio non è stato questo quindi abbiamo fatto una decisione tutti insieme fatta veramente bene abbiamo garantito e evitato di fare altri danni i nostri studenti è stato bellissimo questa cosa e ora dobbiamo fare il tesoro di questa esperienza e dobbiamo considerare che adesso abbiamo un'arma fondamentale che sono i vaccini quindi noi possiamo fare sicuramente meglio rispetto all'anno scorso io credo nell'efficacia di scena dei vaccini quindi io credo che adesso avendo quanto abbiamo il 70% della popolazione vaccinata noi dobbiamo dirci piuttosto che ancora prima di andare a prendere le persone dubbiose dire abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme abbiamo fatto bene e quindi sulla scuola in presenza penso che siamo tutti d'accordo però per quelli che sono i protocolli in questo momento se c'è un solo bambino positivo che entra nella scuola le classi andrebbero in quarantena ok quindi si bella la scuola in presenza ma che succede con le classi in quarantena quindi io le chiedo di cosa qui per me è veramente importante cosa succede come gestiamo i casi di quarantena lo so che dipende in parte da lei e dipende in buona parte anche dal ministero della salute però parlatevi e facciamolo sapere soprattutto ai dirigenti scolastici sono loro che devono sapere non è possibile che si continui con le quarantene indiscriminate addirittura le disposizioni attuali prevederebbero se le persone sono vaccinate una quarantena di sette giorni anche le persone si chiedono ma perché l'abbiamo fatto questo vaccino se poi comunque dobbiamo andare in quarantena e proprio su questo argomento cioè la nostra comunicazione rispetto a tutte le misure è stata dice dovete vaccinarvi dovete vaccinarvi d'accordo quindi noi abbiamo montato molto sull'obbligo morale abbiamo puntato molto su questo questa cosa però lei anche lei diciamo un pedagogista sotto certi punti è un economista quindi si occupa di comportamenti delle persone e ci sono due leve per convincere le persone la prima è quella appunto della punizione ma ancora prima di tentare le punizioni tentiamo con qualcosa di positivo cioè i messaggi positivi questi forse non ne abbiamo mandati abbastanza e faccio un pochino ammenda come membro del Parlamento perché noi dobbiamo dire abbiamo il 70% delle persone vaccinate la Neimarca con il 70% delle persone vaccinate ha di fatto tolto quasi tutte le restrizioni e dovremmo puntare molto sui premi perché è vero che per le persone over 50 sicuramente il rapporto rischi benefici è enorme quindi le persone over 50 si devono assolutamente vaccinare e dobbiamo trovare queste persone per i giovani c'è ancora un vantaggio a vaccinarsi sicuramente personale però questo vantaggio diventa un po' più piccolo allora i giovani che si vaccinano noi gli dovremmo dire grazie voi state facendo qualcosa di bello per il nostro paese di eccezionale e infatti per esempio molti stati danno borse di studio nell'est europeo addirittura dando dei soldi dei finanziamenti dei soldi veramente perché chi si vaccina va premiato lo scopo dovrebbe essere quello che dovremmo puntare è che la persona che si vaccina sta facendo bene per la società e rispetto a prima deve avere dei benefici maggiori ok non è che può avere quello di prima questo dovrebbe essere lo scopo in questo senso quello che lei ci ha detto riguardo alla classe di vaccinati può avere può togliere la mascherina ecco lì quella è una cosa bella è una cosa fatta bene però io diciamo ho letto con attenzione il provvedimento 111 no e provvedimento 111 fatto diciamo ovviamente capisco quello è un momento un po' complesso diciamo per togliere la mascherina sono previste due condizioni o la classe di tutti i vaccinati oppure la classe ci sono dei guariti ovviamente quelli comunque sono però i requisiti per il green pass in realtà sono tre o tutti i vaccinati o guariti oppure con i tamponi allora nel decreto 111 noi stiamo praticamente introducendo una seconda tipologia stiamo prendendo soltanto due dei tre requisiti anche gli uffici ce l'hanno fatto notare questa cosa forse sarebbe il caso perché diventa cioè noi stiamo cioè come facciamo a verificare questa cioè la cosa o diciamo che un personale potrebbe avere il green pass però sarebbe un green pass ridotto quindi a questo punto io penso che nella conversione in parlamento tutti insieme dovremmo dire è inutile che mettiamo una seconda certificazione green pass il white pass il pass bianco lo vorremmo chiamare per la mascherina dovremmo fare forse a questo punto se noi crediamo nel green pass introduciamo la certificazione del green pass da un punto di vista proprio di pulizia normativa d'accordo che quello lì si può anche verificare infine concludo soltanto una cosa abbiamo fatto di nuovo bene il 92% i docenti sono vaccinati io sono d'accordo sul chiedere il green pass ai docenti però ok la sospensione del servizio ma le sanzioni quello sembra cioè perché poi mettiamo in difficoltà non solo i docenti ma mettiamo in difficoltà anche i predenti dirigenti scolastici io non dico la sospensione del servizio è già una sanzione grande la sanzione dei 400 euro che se non pagano cioè se non che dovrebbero verificare i dirigenti scolastici cioè almeno su questa cerchiamo ma ora di non applicarla perché poi alla fine gli estremisti saranno pochissimi cioè secondo me anche questa sanzione sembra eccessiva io la ringrazio e cerchiamo tutti insieme di riaprire questa scuola e far stare il più possibile i nostri ragazzi grazie a Margo è bella do la parola adesso al ministro per la replica prego ministro devo attaccare qui perché sì grazie per i vostri commenti e per la franchezza con cui ci parliamo sempre fa parte del nostro modo di essere grazie moltissimo allora sono tantissime domande che avete fatto con precisazioni puntuali però mi si permette una cosa onore di frassinetti preoccupazioni ne abbiamo tutte le preoccupazioni siamo attentissimi siamo di fronte ad una situazione che non si era mai vista prima dobbiamo essere tutti vigili e attentissimi ma soprattutto bisogna fare una cosa fondamentale che voi avete espresso e che voi esprimete dobbiamo avere sempre il collegamento fra il quadro generale e le singole situazioni le singole situazioni ovviamente io ho l'obbligo del quadro generale ma parlando insieme possiamo vedere le singole situazioni e le singole situazioni sono importanti perché è lì che vivono le persone noi abbiamo messo in campo grandi risorse mi dicevo un milione 952,5 milioni per l'apertura dell'anno scolastico un miliardo scusate un miliardo 952,5 milioni di miliardi di milioni continuo cioè due miliardi dai fai così quasi due miliardi per la riapertura però voglio precisare come li abbiamo messi 150 milioni li abbiamo dati fin dall'estate per lo svolgimento dell'attività didattica in sicurezza abbiamo cominciato prima dell'estate a predisporre le scuole per la riapertura non abbiamo cominciato adesso è da aprile che lavoriamo con i nostri dirigenti perché si attrezzino per la riapertura abbiamo messo 150 milioni per potenziamento competenze recupero la socialità proprio per avvicinarci all'apertura perché ci fossero attività di accoglienza comprese anche ovviamente quella parte di recuperi che vengono fatti a settembre abbiamo messo 350 milioni per spese di funzionamento con particolare riferimento a sicurezza degli ambienti scolastici per le scuole statali 60 milioni per le paritarie qua dentro ci sono le risorse che abbiamo già dato scuola per scuola anche per gli aeratori anch'io vivo nel nord e so anch'io che da un certo punto in poi una volta entrava la nebbia oggi entra il freddo no no ma abbiamo già dato da tempo alle scuole le risorse per comprare tutti i mezzi per la sicurezza degli ambienti scolastici vi ripeto 350 milioni per le scuole statali 60 per le scuole paritarie perché è giusto e ragionevole che ogni scuola nel diverso contesto possa utilizzare le risorse per il meglio perché ovviamente facendo l'esempio delle finestre onore Fassinetti un conto se io apro la finestra a Bolzano o nella pianura a Padano un conto se la apro in Sicilia ovviamente sono diverse e quindi io credo che sia bene avere fatto un intervento che permettesse di affidarsi alla condizione locale situazione locale quindi queste sono le risposte non solo grande attenzione ma risorse già date affinché le autonomie possano utilizzare al meglio le loro attività abbiamo dato 342 milioni virgola 5 per l'azione per contestare gli effetti delle numerosità delle classi e 400 milioni sugli incarichi temporanei del personale atta e docente perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto con dei parametri molto puntuali però il primo parametro che abbiamo utilizzato è stata la numerosità delle classi cioè abbiamo messo delle risorse ancora una volta già attribuite alle scuole perché ogni dirigente abbia a disposizione risorse per avere incarichi temporanei e per permettere anche di fare degli interventi specifici scuola per scuola per permettere in un qualche modo di affrontare la situazione ma il parametro primo con cui abbiamo distribuito risorse è stato questo abbiamo scusami abbiamo introdotto altri 22,5 milioni proprio per le classi numerose qua mi si permetta però un tema che è stato richiamato prima mi pare da onorevole Fusacchia che è il tema del dimensionamento come diceva anche lei finisco l'escursione delle risorse poi ritorno su questo tema del dimensionamento 450 milioni per il trasporto scolastico e 50 milioni per il fondo spostamenti casa scuola a casa sono ulteriori rispetto a quelle di cui dispone il collega Giovannini mi fate però fare una riflessione sul dimensionamento che è riforma fondamentale della PNRR noi abbiamo due problemi in questo paese il primo problema è il problema sicuramente delle classi che superano i 27 noi lo affrontiamo abbiamo dato 270 milioni agli enti locali perché possono approntare interventi di edilizia leggera ma su questo tema ricordo il PNRR ci dà risorse ingentissime per ripensare totalmente gli spazi dell'educazione noi abbiamo già un gruppo di lavoro su questo che sta lavorando molto non può essere più la scuola dei nostri anni il corridoio con le porte chiuse l'oggetto tante volte con gli stanzoni o gli stanzini qui dentro chiude i ragazzi bisogna ridesegnare completamente gli spazi gli spazi STEM gli spazi di laboratorio gli spazi di convivenza questo è il quadro del piano che stiamo lavorando su cui stiamo lavorando di spazi per la scuola questo però è il pezzo PNRR incontriamoci per favore ne parliamo noi siamo disponibili il gruppo di lavoro sta ha già procurato dei documenti su questo ne parliamo abbiamo poi un altro problema che è il dimensionamento degli studi scolastici per quanto riguarda il fatto che in molte parti del paese non riusciamo a fare le prime l'anno scorso l'anno scorso ci sono stati 400.000 nati e 780.000 morti abbiamo perso una città come Firenze l'anno scorso abbiamo un problema fondamentale del capire come facciamo a mantenere aperte istituzioni scolastiche che sono al di sotto non solo dei minimi ma anche delle deroghe non sto parlando soltanto delle montagne la bassa mantovana alla bassa ferrarese non siamo in condizione di mantenere delle istituzioni scolastiche di quel tipo su questo io non ho dubbio un'autonomia deve avere un dirigente vi ricordo che abbiamo messo in ruolo 450 dirigenti del concorso del 17 e per quanto riguarda la campagna addirittura del concorso dell'11 perché i problemi non sono tutti generati dal covid ma abbiamo dei problemi che vengono da molto prima però è chiaro che questi 450 non bastano dobbiamo porci seriamente il problema dei dirigenti qui vi è un tema che mi è molto caro come sono la prea è la formazione iniziale e obbligatoria per tutto il personale in particolare però permettetemi la formazione dei dirigenti un dirigente scolastico ha una responsabilità di un'organizzazione complessa molto più complessa di altre organizzazioni non solo ha bisogno di avere una formazione iniziale continua adeguata ma ha bisogno di collaboratori che siano ugualmente preparati dobbiamo sviluppare quello che si chiama lo spessore educativo delle nostre istituzioni scolastiche quando io parlo della scuola di alta formazione questo sarà il primo mandato bisogna formare il gruppo dirigente del nostro sistema all'interno di questo vi è un tema anche delle amministrazioni centrali e della presenza sul territorio delle nostre USR prima vi dicevo dei 5.900 funzionali che dovremmo avere siamo alla meno della metà abbiamo ottenuto dal Ministero delle Finanze la possibilità di fare un primo reclutamento di 300 che possono arrivare 600 funzionari però ad esempio ho delle USR dove siamo al 30% della disponibilità del personale hanno fatto i salti mortali e i miracoli queste persone in questi giorni io li voglio ringraziare tutti però dobbiamo investire il mio richiamo all'investimento è la precisione puntuale abbiamo degli uffici scolastici in alcune regioni che sono arrivati al limite bisogna investire nelle nostre strutture su questo insisto e mi permitto di insistere perché altrimenti il tema che mi è stato richiamato monore di Frassinetti del Lazio della Toscana è chiaro non pensiamo a fidarci soltanto non dico alla buona volontà siamo molto oltre al senso dell'istituzione dobbiamo investire sul tema dei test salivari ne abbiamo parlato moltissimo con il commissario figliuolo era molto chiaro anch'io credo che questa sia la via e debba essere esteso al di là delle scuole sentinella comunque il commissario figliuolo questa è la sua materia io non mi permetto di intervenire mi permetto solo di ringraziarlo per quanto riguarda la formazione ancora una volta permettetemi di dire una considerazione eh sì dei docenti immessi ora non c'è dubbio noi dobbiamo formarli però vi voglio ricordare un fatto sia sulla formazione iniziale che sulla formazione continua sulla formazione iniziale noi abbiamo un meccanismo che ha previsto lauree abilitanti essenzialmente nel settore della formazione riguardante infanzia e primaria un docente si può lavorare in matematica senza aver fatto un credito sostanzialmente riguardante le attività non soltanto pedagogiche ma anche psicologiche ho presente che sono state anche presentate delle le disegne di legge su questo eh no questo non è possibile questo non è possibile tanto più noi dobbiamo andare verso una profonda riforma della didattica tanto più ogni docente accanto alla propria operazione disciplinare deve avere anche una competenza propria non solo nella pedagogia ma nell'attenzione ai ragazzi ma soprattutto nella gestione dei gruppi questo è fondamentale sia per chi sta facendo l'università ma anche come formazione di quelli che sono entrati qua io l'ho presente ho presente anche che il nuovo reclutamento deve avere la formazione come parte fondante di un processo di reclutamento formazione è se volete è l'insistenza quasi ossessiva con cui io continuo a battere sul tema bisogna assolutamente avere più formazione obbligatoria sicuramente regolata se volete anche in modo contrattuale però sicuramente questo è l'evento fondante compresi quelli che stanno partecipando e che hanno vinto questo concorso sicuramente e mi evovo l'onorevole il tema del reclutamento è una delle forme sostanziali compreso anche la riflessione sull'abilitazione ed è uno dei temi su cui è chiarissimo che dobbiamo tornare insieme per quanto riguarda per quanto riguarda il tema della aspetta che sto guardando quante cose ah no no la sicurezza scusa l'onorevole Fusacchia come abbiamo detto prima nel caso che ci fossero reclutascienze noi non abbiamo interventi d'emergenza ma un piano strutturale per affrontare l'emergenza il piano strutturale parte da quanto è già scritto nel decreto 111 che è chiarissimo laddove vi fosse una necessità di quarantena questo riguarda il singolo istituto e non è più possibile come in passato che l'autorità sanitaria di riferimento cioè il presidente della regione o il sindaco possa estendere questa condizione a tutta la regione o a tutto il comune questo è dentro ovviamente ne state discutendo ne discuterete ma io su questo punto terrei fisso cioè non è possibile che si veda estendere un provvedimento tutta una regione isoleremo il cluster vedremo la gravità del cluster insieme alle autorità sanitarie se l'autorità sanitaria dice qual è la gravità del cluster lo limiteremo e per quanto riguarda le quarantene ovviamente noi siamo e sentiamo il parere del CTS e delle autorità sanitarie ma anche noi abbiamo insistito nel dire attenzione in ragione della numerosità delle vaccinazioni bisogna contenere le condizioni più possibile in ogni caso la mia personale posizione è che la scuola deve rimanere aperta questa è la mia personale posizione chiaramente dobbiamo evitare che vi siano delle condizioni di contagio diffuse e laddove vi fossero vanno assolutamente controllate e regolate per quanto riguarda un tema ancora questo che mi è stato richiamato delle classi vaccinate su questo vi è un tema molto chiaro scusatemi questo era già riferito nel decreto legge 111 dove era previsto però che questo sarebbe stato regolato da linee guida noi stiamo cominciando a ragionare sulle linee guida quando sarà ora ovviamente nessuno verrà abbandonato ma non verrà abbandonato sicuramente nessun preside accompagneremo il preside nella gestione anche di questa situazione le piattaforme la piattaforma è già avviata noi abbiamo già avviato la piattaforma la piattaforma è completamente funzionante dal 4 ma ci siamo presi e ci sono presi su Jay che è il soggetto che lo fa il tempo per il collaudo quindi non solo scusa lei che mi aveva chiesto no 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 la macchina è funzionante ed è una macchina funzionante riguardante il tema del collaudo e quindi stiamo collaudando stiamo collaudando stanno stanno collaudando mi faccia essere franco io ovviamente ognuno ha le proprie competenze stanno collaudando per quanto riguarda il tema del ah no no scusatemi scusate un tema importantissimo che mi è stato rilevato da più parti su cui devo devo tornare al di là del contenimento della situazione attuale il problema delle classi pollario richiama il tema tema che mi fa fastidio perfino a dirlo la parola scusate ma ormai ho una repulsione nei confronti di questa dizione che trovo talmente offensiva nei confronti di tutti che non riesco a dirlo diciamo delle classi sovrannumerarie sono problemi di dignità anche nella formulazione le classi sovrannumerarie io credo che questo è un tema che va affrontato nel suo insieme che ha due aspetti il primo è quello che dicevamo prima con l'Evole Prea cioè il ridisegno degli spazi educativi in ragione del ripensamento della didattica come diceva Leonardo Bernardelli l'altro tema è i soggetti gestori di questa operazione che sono come voi sapete comuni e province l'appartenenza e l'attribuzione di proprietà degli edifici scolastici ai comuni e province risale addirittura alla legge casata in 1859 però sia ben chiaro siamo tutti consci che in particolare per i grandi istituti tecnici e professionali che sono assegnati alle province abbiamo oggettivamente delle difficoltà onorevole lo sappiamo inutile che ci nascondiamo io del resto ho l'evidenza che questi sono i soggetti proprietari a loro ho attribuito le risorse e a loro attribuiamo le risorse però le segnalo che il ministro della coesione all'ultimo consiglio del ministro ha presentato un intervento molto interessante che induce gli enti locali a predisporre ad avere un fondo finché gli enti locali possano predisporre progettualità in modo da poter partecipare poi ai bandi avendo sostegni adeguati per quanto riguarda il nostro ministero noi abbiamo chiuso un accordo alla cassa depositi e prestiti perché possa fare assistenza tecnica a tutti i comuni proprio per predisporre queste sia ai bandi sia alle progettualità credo che questo sia importante soprattutto per i piccoli comuni è inutile che ci nascondiamo esistono delle difficoltà soprattutto poi di realizzazione e le difficoltà di realizzazione devono essere affrontate in questo modo mi pare di aver risposto quasi a tutto però mi permetto di insistere ancora su tre temi che voi mi avete richiamato e che io vorrei richiamare primo il tema delle scuole paritarie io su questo vorrei che noi una volta facessimo una riflessione attenta perché ovviamente noi stiamo estendendo a tutto il sistema educativo nazionale scuole paritarie sono parte integrante del sistema ovviamente delle condizioni particolarmente importanti in particolare nella trasformazione dei sistemi educativi bisogna che noi mettiamo le scuole paritarie in condizione di farlo noi stiamo facendo abbiamo fatto uno studio molto dettagliato sulle scuole paritarie e credo che sulle scuole paritarie dobbiamo fare molta attenzione anche tassonomica noi abbiamo scuole paritarie pubbliche essenzialmente le scuole di infanzia gestite dai comuni in particolare nel nord non nel sud dove sono quasi esclusivamente statali abbiamo scuole paritarie gestite da enti morali o da condizioni religiose che ovviamente sono presenti diversamente nel territorio ma prevalentemente nel nord abbiamo scuole paritarie essenzialmente nella fascia terminale del ciclo quindi scuole superiori anche di grandi dimensioni scuole tecniche professionali e formazione professionale quindi sulla scuola paritaria io vi chiederei una riflessione per articolare meglio le diverse tipologie di scuole paritarie anche in questo caso dobbiamo entrare nella situazione specifica e dobbiamo entrare con sempre l'attenzione di avere i numeri ma di avere dietro i numeri anche le persone con cui stiamo ragionando mi sembra di aver risposto tutto per quanto riguarda i trasporti come ha detto onorevole Fassinetti noi abbiamo messo a disposizione ulteriori risorse in particolare anche per proprio il pezzo casa scuola casa questo ovviamente riguarda soprattutto il ministro Giovannini però però le ricordo che con Giovannini e con il ministro Lamorgese abbiamo fatto la scelta di affidarci molto ai prefetti proprio perché le situazioni sono diversificate in tutte le diverse parti del paese abbiamo infine ragionato molto però credo che il lavoro principale che debba essere fatto è quello che voi avete segnalato ci sono situazioni talmente articolate in Italia noi abbiamo più di 8.000 scuole plessi scolastici in Italia abbiamo 40.800 edifici in Italia abbiamo come vi ho detto prima di fatto fra scuole statarie e scuole paritarie quasi 10 milioni di ragazzi e quindi di famiglie abbiamo oltre un milione di dipendenti cioè stiamo operando su una dimensione per cui è facile rischiare di parlare solo di numeri insieme dobbiamo superare questo dobbiamo avere tutti i numeri ma avere ben chiaro che dietro quei numeri ci sono le facce e i cuori dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie per questo io vi chiedo di segnalarmi tutti i casi di cui voi sul vostro territorio siete presenti e proveremo ad affrontarli assieme grazie grazie ministro la ringrazio appunto per questa audizione ringrazio i colleghi che sono sia in presenza che quelli collegati ringrazio naturalmente gli uffici e tutti i funzionari grazie le dichiaro conclusa l'audizione col ministro Bianchi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti